Strano effetto vederle a metà classifica, strano effetto che la partita, ad oggi, non sembri essere determinante come avvenuto per gli ultimi anni, per il primato, per lo scudetto, insomma è un Napoli-Juventus in tono minore. E il turno infrasettimanale è inteso sottolineare ancora più questo titolo, azzurri incapaci di vincere col Carpi, bianconeri addirittura fermati in casa dal Frosinone che ha così guadagnato il suo primo punto stagionale. Incredibile solo a pensarlo qualche tempo fa. Eppure Napoli-Juventus ha sempre il suo fascino perché è la partita che ha visto protagonisti anni fa Charles e Sivori, Altafini e Savoldi, fino ad arrivare alle epiche sfide contraddistinte dai colpi di genio di Maradona. Specie quella punizione dal limite che Tacconi oggi ancora si sogna. E allora Napoli-Juventus è sempre Napoli-Juventus, anche se la classifica dice che è una semplice partita di metà classifica. In Serie B la Salernitana attende la Ternana, Mister Torrente dovrà fare a meno di schiavi, squalificato, i Rossoverdi sono in crisi di risultato ed identità. In panchina dopo le dimissioni di Toscano la formazione Umbra avrà l'allenatore delle giovanili, in attesa che arrivi il sì di Gautieri, mentre Sannino avrebbe già rifiutato. Salernitana che intanto cerca di ricompattarsi dopo il buon inizio di stagione, sono giunti risultati altalenanti e qualche polemica di troppo. Big match di Lega Pro invece a Castellammare di Stabbia. Certo è un peccato che un Juve-Stabbia paganese d'alta quota, derby, si giochi allo stesso orario di Napoli-Juve. Quasi un controsenso organizzativo a pensarci. Paganese che tra l'altro non potrà avere al suo seguito i suoi supporters per le disposizioni della prefettura per ordine pubblico. Peccato ancora. Mister Grassadone potrebbe tra l'altro non avere a disposizione Fortunato e Dozzi. Ieri hanno lavorato a parte anche Grillo e Deli. Cavese in Serie D all'esame Reggio Calabria, ma soprattutto finalmente in casa propria. Allo stadio Lamberti dopo due giornate di squalifica. I metelliani di Mister Longo vogliono tornare al successo pieno dopo il pareggio di Eboli con l'Agropoli. E i tre punti sono l'obiettivo primario anche del cittadino Cera, che per il torneo di eccellenza ospita domenica al San Francesco il Sorrento, quello ultimo in classifica e non quello capolista. Ci sarà Vincenzo Deliguori, dovrebbe esserci un pizzico di personalità in più, quella che forse è mancata in occasione del pari subito in rimonta a Palma Campania.